attraverso la piattaforma. Gli stati regionali dello sport e del benessere organizzati dal Consiglio regionale toccano tutte le province piemontesi. Dopo Asti in aprile è l'incontro di ieri a Torino. L'obiettivo è quello di diffondere la consapevolezza dei benefici dell'attività fisica tra i giovani e non solo. Vediamo il servizio di Martino Villosio, la linea poi torna a Elisabetta Terigi. Stati generali dello sport, ovvero sindaci, ordini professionali, imprese, specialisti riuniti dal Consiglio regionale del Piemonte intorno ad un'urgenza promuovere tra cittadini, giovani e non, la consapevolezza dei benefici dello sport. Ieri a Torino, seconda tappa dopo Asti, l'importanza di questo compito è stata ribadita alla presenza di VIP ed ex atleti, ma soprattutto dei soggetti chiamati a stimolare e agevolare la diffusione della pratica sportiva tonificante per il corpo, ma anche, sempre più lo si ripete, per le casse pubbliche. La salute non è solo un bene soggettivo, un bene della collettività. I soldi, le risorse per la sanità, i 113 miliardi, non sono più sufficienti per erogare servizi ai cittadini. Lo sport è come farmaco a costo zero, secondo una formula in voga tra amministratori e comunità scientifica, ma in espansione anche nel sentire comune. Soprattutto nella fascia tra i 50 e i 70, dove siamo un pochettino più avanti. Nei giovani invece vedo ancora veramente la mancanza di istruzione e di formazione in questo senso, ma mi faccio anche di informazione. Prossima tappa degli stati generali Sarabrà. Tra gli obiettivi, quello di rendere lo sport accessibile a tutti, fasce deboli comprese, qualche risultato concreto si affaccia. Una legge regionale annunciata, indirittura ad arrivo, sulle palestre della salute, strutture accreditate, aperte a chi soffre di patologie cardiovascolari, diabete, obesità, per un'attività fisica assistita da medici e specialisti, l'obiettivo stimolare e insieme accompagnare lo sforzo collettivo della prevenzione.